Mi chiamo Amedeo Pampolini, sono supervisor di assemblaggio, verniciatura e reparto cilindri e lavoro in azienda ormai da 17 anni. Il reparto assemblaggio, il lavoro principale è il montaggio del montante con i vari rami sulla linea trainata. Il reparto verniciatura si suddivide in due reparti, verniciatura manuale e verniciatura automatica, vengono verniciati i montanti e in manuale vengono verniciati i cilindri. Per lavorare in reparto assemblaggio, diciamo che le skill principali sono molta manualità, utilizzo degli strumenti meccanici e letture del disegno. Per quanto riguarda la verniciatura, l'importante è aver lavorato un pochino nel campo della verniciatura per la verniciatura manuale, quindi l'utilizzo della pistola e per l'impianto automatico lavorare su una cazzina automatica. Per quanto riguarda i cilindri, diciamo che si va sulla lavorazione delle macchine utensili, quindi CNC, utilizzo degli strumenti di misura, seguire gli standard di qualità, poi si passa alla parte manuale dove viene montato il montante, quindi anche lì standard di qualità e utilizzo degli strumenti meccanici.